E' una notizia che apre una speranza in più sul territorio abruzzese, in particolare in provincia di Chieti, dove si concentra la maggior parte delle aziende del settore automotive regionale. Alla Sevel di Atessa, il più grande stabilimento di veicoli commerciali leggeri d'Europa, grazie all'ampliamento della partnership tra Stellantis e Toyota, verrà realizzato un veicolo commerciale, un Ducato più grande di quello che viene prodotto attualmente, anche in versione elettrica, che dovrebbe essere immesso sul mercato intorno alla metà del 2024. Il segretario generale della FIM, Cisla Bruzza e Molise, Domenico Bologna, accoglie con grande entusiasmo questa conferma che il piano industriale di Stellantis va nella direzione auspicata dal sindacato, ma evidenzia va risolto il grave problema della carenza di semiconduttori. Questo annuncio è molto, molto importante perché conferma quello che, almeno noi come FIM, Cisla, abbiamo sempre detto, che lo stabilimento polacco non era alternativo a Sevel, ma complementare, perché non vedo come uno stabilimento che ha una massima capacità produttiva di 100.000 furgoni già poteva sostituire uno da 300-320.000. Quindi con questo ulteriore accordo con Toyota e non dimentichiamo che anche l'accordo lo stabilimento polacco si è portato un altro pezzo di Opel nella produzione. Noi intanto siamo sicuri che Stellantis sta continuando a investire sul nostro territorio, quindi ci sarà un futuro per Sevel e per i nostri giovani. Poi dall'altra parte abbiamo questi problemi, questa mancanza di materiale, di semiconduttori. Io penso che non sia tanto un espload della richiesta di mercati che a un certo punto ci siamo resi conto, che le fabbriche che stanno in Taiwan e in Asia non ce la fanno più. Io penso che ormai sia diventata una questione geopolitica. Qualcuno sta impedendo a questi semiconduttori di arrivare in Europa e quindi io penso che l'Europa deve decidere immediatamente di investire in una fabbrica in Europa di semiconduttori solo per auto, ma teniamo presente che da quando si decide a quando si parte passano due anni e due anni e mezzo. Io non so se le nostre aziende abbiano la capacità di resistere tutto questo tempo.